bentornati in questo nuovo video andremo a vedere insieme come scaricare e installare la potentissima dow traction waveform free e anche come creare una canzone e come esportarla in mp3 tutto questo in un solo video iniziamo subito allora innanzitutto andiamo sul sito della traction andiamo su free download riempiamo la nostra schermata ok ok non sono un robot credo c'è stata inviata la solita email di conferma che andremo a ricercare nella posta dopo aver verificato la mail andremo ad inserire i nostri dati e adesso possiamo andare alla schermata my download inseriamo di nuovo i nostri dati entriamo andiamo a scegliere il nostro sistema operativo lanciamo il nostro eseguibile accettiamo ci mettiamo anche la shortcut sul desktop e apriamo facciamo fare la scansione per trovare i plugin allora questa è la nostra schermata come vedete abbiamo vari template di progetti ma noi in questo momento ne creiamo uno nuovo da zero lo chiameremo canzone fantastica allora questa è la nostra area di lavoro per chi di voi ha già competenze di una dow vedrà che è abbastanza anomala rispetto alle altre però è altrettanto efficace a tutto quello che occorre qua ci sono le track possiamo aggiungere quante vogliamo da qua possiamo inserire gli strumenti anche quelli di default di waveforms pezzo forte qui è il synth con quattro oscillatori possiamo inserire le clip midi direttamente sulla traccia e poi assegnargli i nostri strumenti possiamo usare anche le clip già preimpostate dalla dow vedete ci sono già suddivise per vari generi musicali oppure possiamo usare semplicemente dei sample semplicemente cliccando e trascinandoli sulla playlist possiamo ridurre o ampliare la visuale semplicemente ruotando la rotellina del mouse vedete che ogni volta che ci avviciniamo a qualcosa lui ci dice a cosa serve ok quindi da qui creiamo le automazioni e via di questo passa qui insettiamo il tempo del progetto in questo caso lo voglio a 128 bpm possiamo definire anche la struttura e anche la scala la scala ci servirà nel caso in cui dovessimo usare un file midi cioè se noi inseriamo un file midi qua sopra poi facciamo doppio clic lo apriamo vedete che sono evidenziate in chiaro le note che fanno parte della scala di do maggiore poi se adesso inseriamo delle note dobbiamo poi inserire uno strumento da qua per farle suonare quando clicchiamo su un loop su un sample come avete sentito lui ci fa sentire un'anteprima ci offre un'anteprima per utilizzare un sample semplicemente lo trasciniamo nell'area di lavoro per aggiungere altre tracce clicchiamo qui adesso poniamo ad aver finito la nostra canzone ok così sono buoni tutti ho semplicemente utilizzato dei sample preimpostati ma poniamo che noi siamo super soddisfatti di quello che abbiamo fatto e vogliamo esportarla in formato mp3 per farla ascoltare a tutto il mondo allora andiamo sul menu che è qua file export scegliamo il formato in questo caso voglio un formato mp3 voglio una cosa più semplice lui ce la salva sotto documenti e crea una cartella sotto documenti dove va a inserire il file eccola qua tutto qui ovviamente quando creerete la vostra canzone su ogni traccia andrete ad inserire gli effetti che vi servono andrete ad inserire gli strumenti che vi servono oppure creerete anche voi delle canzoni usando dei sample oppure usando entrambe le tecniche ma questa dough fa tutto quello che fa una dough commerciale e questo è tutto per oggi ho voluto fare un video particolare un video veloce per illustrarvi questa dough che è uno strumento potentissimo e gratuito a disposizione di tutti anche se già possedete una dough può essere utile conoscere anche questo strumento ci sarebbe molto altro da dire ma l'obiettivo di oggi era soltanto fare questa breve carrellata io vi saluto e vi aspetto al prossimo video